Siamo giunti al termine di questo anno difficile e intenso che ha colpito tutte le persone del nostro territorio e contestualmente noi abbiamo sentito la vicinanza di tutte queste persone che hanno trasmesso tanta forza e tanto coraggio ai nostri volontari che tutti i giorni si sono messi di fianco a coloro che erano in difficoltà e che in maniera molto egregia hanno dato la loro missione di essere volontari. Questo augurio vuole essere un modo per dimostrare la vicinanza a tutti voi e ringraziarvi per il sostegno che ci avete dato e che ci darete. Tanti auguri di Buon Natale a tutti da Marco. Tanti auguri da Fabio. Buon Natale da Federica. Tanti auguri di Buon Natale da Pamela. Tanti auguri di serene feste da Daniela. Buone feste a tutti!